Credo che saranno 50 giorni in cui dovremo muoverci molto, correre molto, girare molto per incontrare i Lombardi, per parlare con i Lombardi, per ascoltare i Lombardi e per trasformare in concretezza le cose che i Lombardi schiederanno. Credo che non si debba tenere assolutamente nessuno, si debba essere coscienti del lavoro che si fa, delle proposte che si fanno, coscienti soprattutto, e questa è una cosa che voglio sottolineare, del fatto che le cose che si dicono e che si promettono si potranno realizzare. Questa è l'unica cosa. Poi, ripeto, credo che nella democrazia la cosa bella sia che i cittadini possano scegliere e decidere liberamente. Grazie a tutti.